Buonasera, salve, si chiama Elisio Lovese, Elisio Lovese, Elisio, Elisio, domani è Elisio, domani è Elisio, domani è Elisio, quindi auguri, grazie. Sì, da chi è raccomandato? La Elisio? Mi sono raccomandato da solo, però ho portato il mio portafortuna con Elisio, il portafortuna è che l'ho conosciuto qui nella seconda puntata, anche io sono curiosa, sono una similidata anch'io con Elisio, e quindi vado con Elisio. Allora, ufficialmente devi fondare il Leciso Pancler. Io sono la mia stanza, tutta piena di poteri del Leciso, come mi sveglio ho il sorriso. Cioè, scusate perché non sentite tanta vita mia, tu mi vuoi dire che hai la stanza piena di manifesti del Leciso? Deleciso. E cosa fai ora adesso? Io ora ballo e dedico questo ballo al Leciso. Dove vai, oh? E scusa, se me lo vai qui e non si andrà mai il Cibario, devi far qui dove c'è il Cibario. Non ho parole, delle volte è meglio tacere. Cento secondi! Cento secondi! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.